si va, potenza valida Iapichino e Crida Iapichino e Crida Iapichino e Crida praticamente insieme 8.64 ufficioso siamo vicini al primato personale sia per Iapichino che per Crida era un po' particolare quella di Iapichino anche quando vede Crida affiancarsi riaccelerà altrimenti Manila, chissà comunque loro due dirette in finale terza e te spererà nel recupero dei tempi tessa Macaluto